Allora, tu sei? Daniel. Daniel. E qui chi abbiamo invece? Claudia. Claudia, ah sì? Ma per caso vi conoscete? Per caso così. Per caso vi siete trovati qua in aeroporto? Qua. Ok. E per caso avete deciso di fare? Un lancio. Ah sì? Che cosa ti aspetti? Non so. Adrenalina, adrenalina. Beh quella ti arriva, quella ti arriva. Già in decollo, vedrai. Già in aereo. Già lì, sul furgone, mentre andiamo all'imbarco, sì sì, quello sicuramente. Bene, è stata un'idea tua? È stata un'idea sua. È stata un'idea sua. Ciao tesoro, andiamo a lanciarci da un aereo. Sì certo, come no? No, lui l'ha saputo così. L'ho portato e basta. Niente, ti ha preso. Ti ha portato qui. E adesso ti stanno imbragando e tu sei pure contento. Sì sì. Pure. Va bene, va bene, d'accordo, ok. Facciamo così, dai, ci vediamo dopo a loro, ok? A dopo. A più tardi, ciao. No, vado viva voi. Vado lì. Vado lì, va bene. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione